Buongiorno, stiamo continuando la lezione sul tema di Ibur. Le domande relazionate si possono fare in kab.tv Rav, noi nasciamo in questo mondo dentro il desiderio di ricevere, nella sua grandezza e qualità determinata in ognuno e c'è il punto nel cuore, l'inizio del mondo superiore, la parte divina dall'alto. E noi dobbiamo passare l'importanza del riconoscimento della grandezza, del desiderio di ricevere che cresce a questo punto, al desiderio di dare, in maniera che il desiderio di ricevere rimanga come un punto nero solamente. Il desiderio di dare di questo punto, di questo piccolo seme, di questa piccola scintilla si è espansa alla grandezza di Binah e Keter. Così è come noi passiamo da mondo a mondo. Tutto dipende dall'importanza del punto nel cuore, il punto di dazione, di amore, dell'uscita da me verso il prossimo. e nella misura che noi mettiamo il desiderio di ricevere fino a che si riduce fino a un punto, anche se all'inizio sentiamo tutto in Lui, tutto il grande mondo, questo si trasforma in un punto, quello che era all'inizio, così come abbiamo imparato, nelle quattro fasi della luce diretta, che è come un punto nero, che è dentro la luce bianca, la scintilla si è espansa nel mondo di Ensof, tutto nella luce bianca. Tutto questo cambiamento dobbiamo farlo per mezzo del nostro sforzo, del nostro apprezzamento crescente rispetto al punto di dazione e di amore, che è la qualità del creatore e come controparte ogni volta verifichiamo il valore davanti ai nostri occhi del desiderio di ricevere, della forza che per adesso in lei, in questa forza noi vediamo il grande mondo che così ci sembra e tutto il nostro lavoro è che il nostro mondo lo impiccoliamo così ad un punto nero e la scintilla dentro di noi bisogna cercarla, ingrandirla fino a Ensof, fino al grande e bello mondo e questo precisamente inizia da Libur che noi prestiamo attenzione fino al punto della luce bianca questa scintilla e che tutte le azioni le facciamo per perché cresca ci immaginiamo di essere dentro bina dentro il ventre l'utero e così avanziamo quindi iniziamo è stato numero 10 Shammati 53 il caso della limitazione il caso della limitazione è di limitare lo stato in cui l'uomo si trova e non volere la gadlut grandezza invece l'uomo vuole rimanere nel suo stato attuale per sempre questa è chiamata eterna dvekut non importa la misura di gadlut che ha anche se l'uomo ha la più piccola katnut piccolezza se splende per sempre è considerato che è stata dispensata l'eterna dvekut rav qui si tratta del lavoro rispetto al nostro desiderio di ricevere che il desiderio dobbiamo rimpicolirlo dalla grandezza del mondo fino ad un punto nero come ossia cambiare i nostri valori e per questo Bala Solam ci dice che tutto il nostro lavoro è che lavoriamo che ogni volta rimpicoliamo rimpicoliamo la nostra attitudine rispetto al desiderio di ricevere lasciarla come è perlomeno non voler gadlut e nello stato di ibur noi non vogliamo ne facciamo azioni per ingrandire il nostro desiderio di dazione ma lo lasciamo com'è il nostro lavoro non è che noi ci sentiamo attirati del desiderio di azione non siamo capaci di lavorare nell'aumentare la scintilla ma si fa tutto per mezzo della forza superiore il nostro lavoro è unicamente per stare attenti fino ad uno stato che noi non vogliamo lavorare col desiderio di ricevere questo è perché il superiore ci espanda il desiderio di dazione e per mezzo della luce noi sentiremo che si crea una forma dentro l'altra e sentiremo che ogni volta più e più sentiremo i cambiamenti e i movimenti dentro il nostro desiderio di dazione e quindi la cosa principale in tutti i mesi di gestazione che noi non interveniamo in niente né nella forza né nell'intenzione quello che io voglio è annullarmi di fronte al superiore è un grande lavoro però è relativamente passivo rispetto a quello che succede dopo e quello che impariamo nel nostro mondo con il desiderio di ricevere qui cerchiamo di arrivare ad uno stato dove non vogliamo nessun cambiamento né per la grandezza né piccolezza in realtà non vogliamo intervenire in quello che succede ma permettere al superiore che lavori su di noi questo lavoro continua in tutta la scala dopo si aggiunge nessuna condizione nessuna legge che compiremo in tutti i gradi della scala non scompare non si cancella non va a mancare ma si aggiunge per questo anche nel prossimo grado arriviamo ad uno stato che sentiremo quanto questa limitazione di non intervenire di non fare nulla quanto nella spiritualità agisce negli stati avanzati in maniera tale che si espande ossia che se noi aggiungiamo aggiungiamo per mettere al creatore spazio per lavorare su di noi questo si chiama lavoro del creatore e noi non abbiamo nessuna azione che attiviamo noi unicamente diamo spazio alla forza superiore che faccia il lavoro e la nostra partecipazione è passiva anche se sempre più cosciente un'altra volta frammento numero 10 il caso della limitazione il caso della limitazione è di limitare lo stato in cui l'uomo si trova e non volere la gadlut la grandezza invece l'uomo vuole rimanere nel suo stato attuale per sempre e questo è chiamata eterna dvekut adesione non importa la misura di gadlut che ha anche se l'uomo ha la più piccola piccolezza katnut se splende per sempre è considerato che è stata dispensata l'eterna dvekut dice Rav in accordo al suo grado al suo stato però per ora è così si esprime in questa maniera quindi come come noi definiremo il nostro stato desiderato nel quale noi vogliamo rimanere in uno stato costante non volere niente a parte di questo cos'è che noi lo stesso facciamo con questo come noi provochiamo contentezza nella misura che siamo capaci forse per caso con questo vogliamo rimanere in questo se facciamo qualcosa forse così gli do contento al creatore avanti con ritmo abbiamo molto lavoro il tema di non volere niente mi è difficile da descriverlo essendo che c'è come la costruzione di un'attitudine rispetto a tutto quello che viene dall'alto non impedire non infastidire non disturbare bisogna stare in uno stato in cui uno si aspetta la reazione del creatore non dimenticare la relazione con lui il superiore sa cosa è buono e cosa non è buono per l'inferiore il lavoro è essere capaci di percepirlo come noi vediamo che la luce influenza attraverso la società può essere che noi siamo attaccati alla società senza intervenire né con pensieri né con azioni ma essere attaccati alla società in questo che siamo attaccati alla società e facciamo azioni nelle quali sviluppiamo il punto nel cuore nella società allora la luce agisce e fa il lavoro in questo c'è la forza superiore e quando siamo in questo stato attiriamo la luce e la luce è quella che agisce finalmente apparentemente c'è un grande lavoro in questo perché in questo bisogna lasciarlo a giri senza che infastidisca Questa è un'influenza maggiore, anche il contrario. Il primo passo è questa l'entrata corretta nel lavoro. Costruire una nuova attitudine, una nuova forza, è chiaro che questo dà contentezza. Anche se uno non è attivo, però lo attribuisce al creatore. C'è connessione nella misura che noi stiamo addirittim al desiderio degli amici, della società. A partire da questo, sentire il desiderio del superiore. La cosa principale è tenere il punto nel cuore che aderisca agli amici e così agisce su di te la luce. Sì, è lo Stato desiderato essere simile al creatore. Questo è ciò che significa che quando Israele vennero a ricevere la Torah, Mosè condusse il popolo ai piedi della montagna, come è scritto, ed essi si fermarono ai piedi del monte. Har, montagna, significa hirurim, riflessioni, pensieri. Mosè le condusse alla fine del pensiero, della comprensione e della ragione, ovvero a livello più basso che ci sia. Solo allora, quando furono d'accordo con quello Stato, di percorrere senza nessuna esitazione e deviazione, ma per rimanere in quello Stato come se fossero nella più grande gadlut, grandezza, ed essere felici per questo, questo ha significato di servire il Signore con gioia. È così perché durante la gadlut non è pertinente dire che Egli dà il loro lavoro per essere in gioia, perché durante la gadlut la gioia viene da sé, invece il lavoro nella gioia è dato loro nel tempo di katnut, piccolezza, così che avranno gioia sebbene sentano katnut. Questo è un grande lavoro. Questo è chiamato la parte principale del livello che consiste nel discernimento di katnut. Questo discernimento deve essere permanente, la gadlut è soltanto un'aggiunta. Inoltre, l'uomo deve desiderare ardentemente la parte principale, non le aggiunte. A proposito, non l'hai letta o non ce l'hai una parte? Questo è molto importante. Un'altra volta. Questo è ciò che significa che quando Israele vennero a ricevere la Torah, Mosè condusse il popolo ai piedi della montagna, come scritto, ed essi si fermarono ai piedi del monte. Har, montagna, significa hirurim, pensieri. Mosè li condusse alla fine del pensiero, della comprensione e della ragione, ovvero al livello più basso che ci sia. Solo allora, quando furono d'accordo con quello stato, li percorrono senza nessuna esitazione e deviazione, ma per rimanere in quello stato, come se fossero una più grande gadlut, grandezza, ed essere felici per questo, questo ha il significato di servire il Signore con gioia. È così perché durante la gadlut non è pertinente dire che egli dà il loro lavoro per essere in gioia, perché durante la gadlut la gioia viene da sé. Invece, il lavoro nella gioia è dato loro nel tempo di katnut, piccolezza, così che avranno gioia sebbene sentano katnut. E questo è un grande lavoro. Questo è chiamato come la parte principale del livello che consiste nel discernimento di katnut. Questo discernimento deve essere permanente e la gadlut, la grandezza, è solo un'aggiunta. Inoltre, l'uomo deve desiderare ardentemente la parte principale e non le aggiunte. Rav. Generalmente, in questa epoca, l'uomo ha tutti i tipi di tendenze che gli vengono svegliate dall'alto, di ingrandire se stesso, determinare qualcosa, pubblicizzare se stesso. Si svegliano in lui tutte queste necessità contro di questa bassezza, di questa piccolezza. E lui deve capire che è il lavoro che gli danno dall'alto, che fino a che non accetti che lui è zero e che non deve fare nulla per adesso e per il futuro, allora passa a questo stato e può continuare e entrare nello stato di Ibur. E prima no. Ossia, fino a che l'uomo non è d'accordo che uno zero come un punto non entra nell'Ibur. Questo dobbiamo sentirlo molto bene e cercare di stare attenti fino a che abbiamo le lettere del lavoro, le otiotte, e che possiamo capire dov'è il piccolo buco come la cruna di un ago che attraverso di questo entriamo nella spiritualità. Come noi percepiamo l'entrata nel mondo spirituale. Detettiamola. Focus Group. Quando Rava ha parlato mi sembra che questo luogo vuoto dobbiamo utilizzarlo per aiutarci uno all'altro e non andare nella direzione del riempimento comune ma utilizzarlo per costruire una mancanza per la spiritualità. È un tema molto delicato che ha bisogno di molta luce che riforma di ascoltare i consigli e arrivare a questo. Il lavoro nello stato iniziale già te l'ho capito. per ricordare che il lavoro è tra di noi loro sono superiori e stanno in d'azione stanno in d'azione noi siamo abituati a dominare per questo la nostra preparazione prima dello zoom e della riunione degli amici è come noi arriviamo alla riunione tutto il tempo bisogna vedere come li identifichiamo gli amici bisogna annullarsi e svegliare la grandezza del creatore e della società anche a me mi sembra anche come l'entrata nello stato spirituale questo vuoto che si sente nell'uomo da un lato ha vuoto la grandezza del creatore e la utilizza per dare questa importanza agli amici è difficile da dire con parole da un lato essere un embrione piccolo uno deve costruirlo a partire dal creatore uno capisce con questo che c'è gioia nel lavoro Radova ha descritto uno stato che è opposto alla bassezza per sempre cosa hanno bisogno gli amici tutti i dubbi Rado dice domande Tutto chiaro? Bene Anche nella piccolezza bisogna essere in gioia Rav dice come si può essere in gioia nella piccolezza? domanda Rav ma perché entri nella piccolezza? è una tappa nell'entrata della spiritualità avvicinamento al creatore questo sempre devi essere in gioia nella spiritualità non puoi essere contro il desiderio ti devi rincarnare sempre di più fino a che hai questo desiderio domanda tu hai parlato del nostro intervento di non richiedere la grandezza dobbiamo rimanere nel nostro stato attuale limitato ma perché io voglio svilupparmi Rav non puoi svilupparti sotto il tuo desiderio di ricevere perché come fai a svilupparti in lui? devi rimpicolire il tuo desiderio di ricevere materiale fino ad uno stato che avrai unicamente il necessario per esistere tutto il resto la tua attenzione tu puoi essere ricco non importa si parla dell'attenzione tutta la tua intenzione concentrarla allo sviluppo spirituale da questo punto non capisco qui dov'è il problema è chiaro che non volere di più di quello che hai bisogno per esistere se no al contrario si è preoccupato per il lusso per il sovrappiù il lusso si dice che è a conto della spiritualità il sovrappiù domanda la cosa principale del grado è la piccolezza dice qui e questo deve essere fisso e tutto il resto è un'aggiunta questo non è chiaro dice la cosa principale del grado è la piccolezza e questo grado deve essere fisso costante cosa significa questo è la grandezza è solamente un'aggiunta come si arriva a questa aggiunta come mi come arriva a questa aggiunta se io tutto il tempo sono in piccolezza Rav io ho il desiderio di ricevere con il quale sono nato si sviluppa e arriva ad uno stato dove io voglio divorarmi il mondo intero voglio utilizzarlo quando cerco vedo che è un affare perso non otterrò niente da questo e lentamente arrivo alla coscienza che non conviene svilupparsi in questa direzione che questo si sotterrerà insieme con il corpo e si disarmerà come posso arrivare a qualcosa di maggiore a qualcosa di eterno di integro perfetto spiritualità io non so cos'è la spiritualità però si cerco lo scopo della vita il senso della vita il più corretto il più vero dove conviene che io investi per ricevere un guadagno eterno e non perdere come io vedo con tutti gli affari di questo mondo così è come io arrivo alla saggezza della cabala io non io non sento chi mi conduce cosa mi spinge il punto nel cuore ancora non so cos'è ma ho una mancanza io voglio occuparmi di qualcosa che sia la cosa più conveniente e di tutto il resto io sono disperato il mondo lentamente arriva a questo lentamente in tutti lo studio della scavala uno comincia a sentire che io sono diviso in due parti che il mio desiderio di ricevere vuole ugualmente qualcosa di questo mondo e ho un altro punto nel cuore una scintilla che io posso ingrandire e quindi giustamente nel desiderio di dazione inizio a sentire la realtà superiore e quindi ho due desideri il desiderio di ricevere rispetto a questo mondo e il desiderio di ricevere rispetto al mondo a venire solamente che si chiama il desiderio di dare solamente che per me si chiama desiderio di ricevere perché io voglio afferrare i due mondi domanda questo è come mettere un motore smettere spegnere il motore Rav dice tu non puoi stare nei due affari contemporaneamente tu devi rimpicolire il tuo desiderio di ricevere per questo mondo per ingrandire a conto di questo il desiderio di ricevere per il mondo a venire il desiderio di ricevere in l'olishma tu sei ancora in questo come può essere uno e l'altro non cammina questo non funziona domanda come si può avanzare in questo stato Rav dice hai l'ambiente i libri hai un sacco di mezzi con i quali tu puoi dare l'importanza al desiderio spirituale al posto del desiderio materiale cos'è che conviene convenienza domanda cosa devo fare quindi in uno stato così statico ingrandire l'importanza della spiritualità aggrapparti afferrare il mondo a venire il creatore così aggrapparti quali intenzioni devo fare per imprigionare tutto questo tu devi rinunciare a questo desiderio materiale tu hai un desiderio spirituale e ti dicono nella spiritualità riceverai tutto però devi avere un desiderio solamente per questo e tutto il resto solamente in forma necessaria ma nella maniera necessaria domanda cosa dipende dalla mia rinuncia Rav la rinuncia dipende dal fatto di fare attenzione cosa significa questo Rav che tu investi in questo tutto il possibile tutto quello che i kabbalisti ti consigliano domanda noi siamo in irurim in riflessioni tutto il tempo ai piedi del mondo Rav dice mangiare sesso famiglia denaro onore conoscenza tutto questo che appartiene a questo mondo tu lo fai scendere al grado necessario che sia la professione sostentamento salute le cose che mancano e nient'altro domanda diciamo che io adesso l'ho avvassato e per controparte aumenti la tua occupazione spiritualità dice la domanda e come faccio le cose che mi fanno avanzare più rapidamente possibili e non fare tante stupiraggini e dire nel lavoro come io avanzo nella maniera più rapida possibile di ridurre il tempo di serrare il tempo Rav dice quando io ho scritto i miei tre libri così piccoli piccoli non grandi li ho scritti nell'anno 1983 e dopo non ho scritto niente fino all'anno 91-92 perché perché ho visto che non è non è a mio favore e cose così ossia l'uomo deve limitarsi e non non alimentare il proprio ego e tutti i tipi di azione bene abbiamo Peter Peter potrebbe spiegare un po' meglio l'ultimo frammento che abbiamo letto tutto il frammento dice Rav no la domanda che lei ha fatto forse io posso detettare la spiritualità questa è la prima cosa e se possiamo aiutarci reciprocamente l'ultima è l'entrata nostra traumia nella spiritualità Rav se io passo l'attenzione da me verso il gruppo creatore umanità tutto quello che è fuori da me però in maniera chiara anche se la società il mondo è il creatore questo si chiama che io in questa maniera avanzo e lì devo fare attenzione io devo lì investire va bene Gleb si riga 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 è rimasto lì già buongiorno buongiorno lì cosa significa che Mosè li porta ai piedi della montagna e loro sono d'accordo all'immanere lì per sempre Rav dice è una forza che li porta alla spiritualità che Mosè Moshek li porta fino alla bassezza e ai dubbi due discendimenti così che sono molto duri e se l'uomo è d'accordo a continuare così avanti anche se ci sono un sacco di dubbi riflessioni pensieri e bassezza meno di tutti i dubbi e riflessioni questo vuol dire che sono ai piedi della montagna quando si riducono veramente a zero riducono il desiderio di ricevere solamente per resistere non ho bisogno di nient'altro solamente nella maniera necessaria che tu mi obblighi il creatore mi obbliga la natura mi obbliga allora se è così allora io sono disposto a ricevere la Torah sì potrebbe chiarire questo punto che lei ha detto che nel 1988 lei ha scritto libri che non erano a suo favore allora dice non è che non erano a mio favore era conveniente era necessario anche per il mio orgoglio e anche perché avevo una richiesta in Russia il consolato americano in Russia per metterlo in questo tempo però io ho sentito che è così come sono entrati lì domanda diciamo io sono nel gruppo mi viene il gruppo e mi dice che bisogna prendere un ruolo e io io so che questo mi fa godere nell'ego e il gruppo mi dice prendi questa funzione ma io so che in forma spirituale mi danneggia me Rav dice questo è un problema questo è un problema meglio tutte funzioni materiali e convenienti rispetto al gruppo devi essere responsabile per sbucciare però spiritualmente è un problema nella spiritualità tu devi dividerlo con qualcun altro con un altro amico che è già diverso solo da solo no non va bene a parte che dipende che non sia una funzione spirituale Heimeraz traduce tutti i libri tutti i testi all'inglese è un lavoro spirituale non so però è un lavoro è chiaro che l'uomo può inorgogliersi di tutto lui spinge se stesso verso questo il suo io capisci domanda è una domanda è un problema decidere all'inizio io non ho la capacità di decidere e leggo leggo anche lì dice ma lavora in maniera diversa comunque è sempre un aiuto contro io ti ho dato consiglio tu hai una funzione che è relativamente spirituale che tu ti rende famoso dividilo in una maggiore quantità di persone sì fino ad oggi a me mi sembra che noi non impicoliamo il desiderio che diceva ma ingrandiamo l'importanza della dazione e su questo agisce la luce che riforma per ingrandire questo desiderio e adesso ho sentito che nell'epoca di Bur dobbiamo restringere il desiderio di ricevere la dice altrimenti cosa potrei fare chi sei tu tu vuoi ingrandire il desiderio di dare come fai nella misura che tu limiti il tuo desiderio di ricevere fino al livello necessario non sarà che non sarà né elevato né condannato in questa misura tu puoi ingrandire il desiderio di dazione in qualche maniera di dazione alla società al gruppo eccetera domanda cosa vuol dire non intervenire nel lavoro del creatore nell'epoca dell'Ibur è molto specialmente importante perché da un lato l'uomo è abituato ad entrare in in ognuna delle azioni dove sono io che lavoro sono disposto e qui il suo lavoro è un lavoro per il fatto che lui limita se stesso che lui dà al superiore gli permette di lavorare come un bambino nelle mani della sua mamma o ancora di più dentro l'utero in cosa lavoro che lui può immaginarsi che tutto il mondo è un utero e tu devi arrivare in uno stato che tu sei un embrione e quindi devi rimpiccolire i tuoi pensieri le tue azioni tue può essere che tu lavori molto però sono tue è la cosa più massima che desideri che il superiore agisca attraverso di te però tu con questo non ci sei tu vuoi solamente sentire e quindi sei come un bambino che se lo accarezzano qualcosa non si muove non si muove sente sente bene che si occupano di lui che fanno qualcosa così in realtà l'embrione nel ventre tu devi limitarti e guardare che sentirai che il creatore agisce attraverso di te è qualcosa di molto emozionale e di molto potente bisogna desiderare questo bisogna essere in aspettativa di questo questo è un grande lavoro perché hai il desiderio di ricevere e sentirai cos'è però questo che tu gli permetti di lavorare e che ti passerà attraverso di te tutte le azioni tu stai imparando questo però nella maniera che non intervieni bene questo è una forma passiva come adesso che i bambini vanno a scuola guarda la prima classe la prima classe il lavoro passivo vengono se ne vanno non sanno cosa di succedere fino a che l'uomo entra di più la persona entra sempre di più nell'azione anno dopo anno lo fanno entrare in un'azione sempre più attiva per questo i bur li bur è pieno di gradi tutto quello che succede dopo si basa inizia a maturare nel tempo del i bur dopo dopo la nascita questo è lo sviluppo del i bur perché l'hai ricevuto dal superiore dopo ricevi la forza per per realizzarlo concretizzarlo e dopo si ricevono forze dello sviluppo e forze di d'azione che dopo si sviluppano per questo il segreto di bur lo studieremo dopo lo vedremo in riassunto rispetto al nostro io non intervengo e non intervengo nel creatore nel suo lavoro il suo lavoro è così io solo voglio in qualche maniera vedere come funziona fino a che sento che agiscono in te tutti i tipi di liquidi parti molecole tutti i tipi di cose fino a che inizi a sentire che gli atomi non ho capito non ho capito cosa vuol dire restringere i miei desideri mangiare sesso famiglia denaro onore conoscenza restringere è necessario diciamo noi rimaniamo in tutti i lavori gli affari e tutto però è come la domanda che ha fatto lui Gershon che si cambia l'importanza io posso essere il padrone di un impero grande con miliardi quello che faccio con questo non è importante non mi fastidice questo la domanda è solo dov'è l'importanza questo è qualcosa di molto speciale io non inganno me stesso io ho sentito che non potevo come è possibile questo tema degli affari che è così complicato con i clienti io ho dovuto lasciarlo non potevo essere qui e là però in realtà se non ha a che vedere con i clienti malati tutto questo mi sarei rimasto Rabash nemmeno mi avrebbe permesso di abbandonare però io ho visto che che non può essere ci deve essere lì qualcuno che tutto il tempo si preoccupa per questo al 100% della vita materiale e quindi l'ho dato a uno dei dottori lì però non si può in un'altra maniera se fosse stato un business diverso che non aveva a che vedere con terapie e cure io avrei continuato Rabash non avrebbe permesso che io abbandonassi la cosa principale è fare attenzione alle occupazioni agli affari che ingrandiscono l'orgoglio dell'uomo la sua grandezza la fama del suo nome nel mondo per esempio o nella società e qui bisogna stare attenti domanda e come come taglia con questo se sente che lo sta danneggiando in maniera delicata lentamente non così di colpo e come come vivrà come può mangiare solamente di non essere grande conosciuto così e così se ha un livello molto basso in qualche posto di un piccolo lavoro non importa mosci volevo domandare sull'importanza lei parla tutto il tempo dell'apprezzamento quanto io apprezzo la spiritualità così avanza di più così tu metti l'accento dal materialità alla spiritualità non è che l'abbandoni ma l'importanza parlare dell'espressione dell'importanza in questo mondo si apprezza in accordo al denaro così l'umanità nel suo linguaggio nel nostro mondo invece qual è il valore la quantità che io studio com'è che si misura non posso misurarlo in maniera materiale o con soldi i soldi anche sono un peso quanto pesa l'oro l'argento o metri non posso qui la mia misura è quanto io l'ho peso quanto è importante è per me domanda io non so misurarlo da 20 anni io mi sto domandando forse la spiritualità è più importante io faccio le stesse cose ho la stessa quantità faccio le stesse azioni se arrivo qualcuno di nuovo è chiaro devi investire di più qui e là prendi un'altra funzione un'altra cosa questo è chiaro qui io bisogna apprezzare di più non so cosa tu devi percepire questa questa misura e quali misura allora dice attenzione verso dove io mi sento tratto cos'è che io apprezzo così in ogni cosa anche nella materialità è la stessa cosa solo che lì tu puoi misurare in qualcosa nelle ore che stai investendo quantità di soldi in forza in qualcosa qui di vedere quanto tu ti senti attratto e quanto tu investi diciamo tu e tutti gli alunni veterani siete passati per vent'anni della prima tappa e adesso voi entrate in Nibur questa è l'epoca che deve essere davanti a voi e adesso i tempi cominciano ad andare molto più veloci e cambiano più velocemente però tutto dipende dall'attenzione domanda nella spiritualità si si può misurare c'è l'apprezzamento è un accordo al massaco o cosa la dice nella misura che si avanza nella spiritualità è di meno quello che si deve misurare ma quello che si misura è quanto io mi libero del tema del creatore io non lo infastidisco a lui quanto il valore della dazione è più importante nella spiritualità questo io non lo posso misurare questo è qualcosa che non è corretto la dice no non dire tu puoi tollerare sentire la dazione più di prima questo non è incosciente io questo io non posso però non posso misurarlo questo la dice ancora no però tu senti che manca d'azione e anche apparentemente c'è l'amore al prossimo ma ti amere ah però io bene io lo sento però lo ascolto però prima non lo potevo neanche ascoltare quindi in questa misura non è che non è così terribile ma non posso misurarlo non è che è terribile io devo ridurre a zero tutte le mie occupazioni immaginarie cosa vuol dire immaginarie che non apportano niente e io con questo non guadagno nient'altro che fermarmi e questo è tutto specialmente come abbiamo detto sono occupazioni che portano avanti l'orgoglio come lui scrive Balasulam che se l'uomo diventa famoso è un castigo è un castigo qui bisogna stare attenti l'uomo deve accettare il carico il gioco del regno dei cieli nello stato più basso e dire che anche questo stato nel quale non può essere in una umiliazione maggiore ossia che è completamente sopra la ragione e non ha nessuna base di mente sensazione sulla quale possa costruire le sue fondamente e si trova come se fosse appeso tra il cielo e la terra e non ha nessun e quindi è completamente sopra la ragione e quindi l'uomo dice che il creatore gli invia questo stato nel quale si trova in piena bassezza dato che il creatore vuole che in questa maniera accetti il gioco del regno dei cieli in questa forma di piccolezza allora lo accetta perché crede sopra la ragione che questo stato in cui si trova arriva da parte del creatore ossia che il creatore vuole che veda lo stato più basso che si possa essere nel mondo in ogni caso deve dire che crede in Dio in ogni caso e questo si considera una redenzione incondizionata una resa incondizionata un'altra volta da Rabasha articolo 21 l'uomo deve accettare il carico del regno dei cieli in uno stato più basso e dire che per lui anche questo stato più basso dove non c'è una bassezza maggiore ossia che è completamente sopra la ragione e che non ha nessuna base da parte della mente alla sensazione sulla quale possa costruire le sue fondamenta e si trova come se fosse appesa tra il cielo e la terra e non ha nessun aiuto e quindi appoggio e quindi è completamente sopra la ragione e allora uno dice che il creatore gli ha inviato questo stato in cui si trova nella totale bassezza perché il creatore vuole che accetti il gioco del regno dei cieli in questa forma di bassezza e allora lo accetta perché crede sopra la ragione che questo stato nel quale si trova adesso gli arriva da parte del creatore ossia che il creatore vuole che veda lo stato più basso possibile nel quale si può stare nel mondo e in ogni caso deve dire che crede nel creatore in ogni caso e questo significa resa incondizionata allora dice dopo di questo punto inizia la spiritualità che quindi gli permette al creatore di riempire tutto quello che lui prima riempiva da solo come noi noi alle volte sentiamo questo punto in uno stato che ci troviamo in discesa in bassezza disperati impotenti in questo che sentiamo che il suolo cade sotto i nostri piedi si perde la sicurezza allora noi siamo in una forma con una sensazione vicina alla spiritualità e qui la cosa principale è non scappare e sentire ben bene questo stato quanto è sgradevole e che forza abbiamo bisogno perché perché questo stato sia desiderabile cos'è che noi cos'è che ci manca a noi perché questo stato sia desiderabile prima descriviamo lo stato in cui siamo con impotenza come noi ci eleviamo da questo stato in una resa incondizionata e arriviamo lo portiamo ad uno stato desiderato in uno stato in cui comincia a respirare una nuova area un'area spirituale dopo che io mi sto affogando vedo che c'è nei polmoni materiali ma come i pesci che hanno è come veramente è così si riceve una nuova aria attraverso un nuovo meccanismo come io sento ti senti Gershon specialmente te come io sento questa situazione di disperazione proprio che io sono un po' abbassato che questa condizione è che che se io lo farò diventare desiderabile non è che la situazione cambi se non il mio atteggiamento al mio approccio muti verso questa situazione e lì troviamo l'inizio dello sviluppo spirituale non vogliamo che cambi la situazione se non il mio apprezzamento e il mio approccio a questa situazione deve mutare prego prima di tutto sembra che questa è la condizione desiderabile che vogliamo che la nostra approccia a questa situazione muti una cosa che da me nasce è che ci vuole una forza esterna forza superiore che ci dia questa forza per fare questo passo avanti che ci dia possibilità di fare questo passo avanti è chiaro che qui non c'è più saggio quello che è l'esperienza quanto spiacevole duro difficile di nuovo succede di nuovo succede con una ruota continuamente succede senti in questo inizia a sentire che c'è qualche avanzamento in la spiritualità qualche utile in questa bassezza assoluta per continuare a non mollare l'esperienza ci porterà la risposta c'è una condizione che tu pensi che tu hai programmato che tu realizzi e il risultato non è come tu pensavi che sarebbe e questo è un punto di impotenza capisci che il dominio non si trova nelle tue mani sia nelle mani del Borre e lì inizia a lavorare tutto da capo ogni volta viene chiedito di più che i valori materiali e i valori spirituali sono opposti uno alle altre una punta all'altra sono completamente opposti come comprendere questo afferrare come mantenere reggere questi valori spirituali sembra a me soltanto che soltanto essendo in adesione nel RAV le lezioni nello studio negli amici altrimenti l'uomo cade di sicuramente da parte di questo mondo hanno messo l'isperazione da parte del mondo spirituale vengono i dubbi e riflessioni o il passo che possiamo fare adesso è soltanto della volontà di ricevere spirituale sappiamo che questo passo non è della volontà di ricevere di questo mondo sennò che c'è un'occasione veramente di fare un passo un passaggio spirituale sì questa è la bellezza che si trova in questo che ci insegna a noi di fatto di individuarci non con i miei sentimenti e mia volontà di ricevere essere più in contatto con la forza superiore che ci sia un pochino più dell'ombelico un po' più elevato è un processo educativo che noi attraversiamo questa individuazione con quella forza viene fatta proprio quando l'uomo per dire leva tutto quello che si trova in lui e per dire rimane senza nullo e proprio di questa situazione lui inizia a acquistare non so qualche nuova natura si può dire inizia con questo essere simile al Bore noi dobbiamo trovare una forma di aiutarci a vicenda perché sembra si può vedere che è un processo opposto quando l'uomo evolve di più inizia veramente a ferrare a capire cosa è questa spiritualità questa adazione la resistenza è più potente allora a questo in questo posto può portarlo a cercare di riempimenti in posti che già ha lasciato per questo bisogna della società dobbiamo operare utilizzare la società servire la società che ci rega in questa situazione e questa è la situazione che l'ego continuamente ti disturba non ti permette nulla da fare ti afferra si arrende un pochino chiude la bocca in quel momento un attimo e in quel momento puoi un pochino adorare diverso nuovo in te però dobbiamo ricevere delle forze della società tutto quello che dai libri dal RAV della società che loro si trovano in questa cosa e si occupano continuamente di questo allora tu vuoi connettere in quel momento a queste grandi persone che tu soffoca delle forze di te stesso dice il RAV come io che io cerco questa condizione futura prossima capisco che lui si trova dentro della società nella mia inclusione in loro io voglio far avanzare le fasi della gestazione dell'Iburo entrare dentro il gruppo ogni volta di più per quale ragione io trovo della società le situazioni future più avanzate come cosa succede che trovo lì anche se loro non importa quale situazione personale si trovano loro poi arrivano nuovi allievi io mi trovo già dieci vent'anni in questa occupazione e voglio avanzare se io voglio avanzare mi includo loro ho fatto un passo mi includo un po' di più un altro passo come questo succede questo processo succede prego succede come abbiamo detto prima dare al Bore operare lascia lo spazio operare il Bore si trova nella società la qualità d'azione e con questo l'uomo dà a lui la possibilità di lavorare di dare possibilità al Bore operare sull'uomo salite discese nuovi discernimenti nuove condizioni arrivare ai pauri a rialtare da quella parte all'altra parte tutto si trova però dentro della società dentro del gruppo il nuovo in se stesso non può acquisire raggiungere nulla nel fatto che su scala una montagna sempre rimane dentro il suo ego soltanto di questa società lui può acquistare questa influenza della luce su di lui come succede? succede veramente lentamente perché all'inizio è proprio non cerchiamo la società per nulla però piano noi iniziamo a capire che veramente che soltanto in questo collettivo in questo gruppo nel fatto che tutti includi in questo collettivo si trova lì e l'opera luce veramente lì che opera sulle persone che lo compongono come succede non lo so esattamente però sembra che quello che succede è che l'uomo che si include così in questa forma lui diventa lui si connette a quel sistema della divinità perché il sistema della divinità non è in me o in te o in lui sino in questo legame fra loro l'uomo si include in questi legami e in questa forma lui si connette in forma diretta a quella forza esistente questo numero 13 dal secondo volume quelle con delle sono sacre la cosa più importante è la preghiera o che l'uomo deve pregare al Signore che aiuti che lo aiuti ad andare al di sopra della ragione vuol dire che il lavoro deve essere con gioia come si ha ricevuto questa ragione sacra mente sacra e quale sarebbe stata tanta grande la sua gioia di questo lavoro e lo stesso anche deve chiedere al Signore che gli diai questa forza che lui abbia la possibilità di andare al di sopra della ragione del suo corpo vuol dire anche se il corpo non accetta questo lavoro per radazione soltanto lui chiede al Signore che lui abbia la possibilità di lavorare con gioia come è adatto a chi veramente serve un grandissimo re e lui non chiede al Signore che lo faccia vedere la grandezza del Signore che allora lui lavora ovviamente con gioia sino che lui vuole che gli dia la gioia in questo lavoro al di sopra della ragione che diventi importante dell'uomo come se già lui ha questa ragione per aiutarci in questo dice il Rav il Bore ci porta a noi la tristezza Sigerson normalmente pretese richieste impotenza mancanza di soddisfazione ovviamente e altre tante altre cose per quale ragione perché se noi non saremo vuote come arriveremo a questa preghiera tutte queste condizioni situazioni che passiamo della piccola disperazione alla grande disperazione la piccola mancanza la grande mancanza è un aiuto dal superiore per affrettarci e abbreviarci questo cammino alla preghiera alla richiesta e allora il Bore potrà cambiare questa situazione ovviamente soltanto lui si può mutare e muterà e allora in quel momento noi avanziamo come noi vediamo nella disperazione in questa impotenza in questa mancanza di riuscita con i nervi con la rabbia come noi vediamo in questo un invito del superiore un aiuto del superiore del Bore per farci avanzare verso la preghiera la preghiera non è che noi chiediamo come i bambini piangono che noi facciamo alzare rilevare una mancanza elaborata giustamente e in questa mancanza viene ad operare dentro del Bore e causa lui lui deve essere come causante senza di questo non si può realizzare senza questa mancanza terza questa mancanza lui investe la sua luce e trasferisce a noi questa luce indietro a noi quella mancanza con la luce dentro vediamo come questo funziona come questo succede come io individuo trovo quanto è più rapidamente e giustamente quello che si sveglia in me questa impotenza disperazione paura terrore e così via tutto viene soltanto per svegliarmi alla priera alla richiesta giusta la richiesta non è per cambiare la situazione da tristezza e ingiorio come un piccolo bambino sino che questo diventi la priera per il mutamento interiore mio che in questa condizione che mi trovo anche se in questa condizione in se stessa che lui mi fa svegliare in me questa tristezza questi timori che sentirò in questo una gioia e sicurezza in queste situazioni qual è la differenza tra questa definizione così o diversamente al posto di più al più di meno più soltanto con la presenza del Boré il legame con lo scopo e come io organizzo da questa tristezza una rivolger mi giustamente al Boré che questo rivolgermi a lui sia come un vestito alla luce superiore come a luce ritornante diventa il vestito a luce diritta non è solamente così però avanziamo in questa forma e allora io faccio levare la priera che il mio rivolgermi a lui io mi preoccupo che sia come il vestito all'aiuto del Signore che si investa l'aiuto del Signore come luce diritta dentro della mia preghiera della mia mancanza della mia luce ritornante e così opera su di me per fare questo mutamento in me che in quel momento è la situazione che ho sentito prima questa impotenza problemi vari tantissimi io sentirò una salvezza cosa è questa salvezza? soltanto la presenza del Bore in questo lui già fa trasferire la definizione della situazione da male in buono vero? Gershon? bene parlate su questo è sicurezza il fatto che faccio appartenere tutto al superiore che sono legato a lui che c'è la sicurezza di questa condizione questa capacità di fare questo e soltanto dipende di quanto io mi trovo veramente dentro la società forse parlate così forse in forma mescolata tutti insieme avanti dice il Rav ora tutto 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 un processo mi sento male fino a che io ricevo l'aiuto del superiore e definisco che questo è buono e ottimo avanti tutti insieme sento male allora io sono incluso nella società e sono assorbito la società in forma in forma e faccio appartenere anche artificialmente appartenere tutto questo al Bore io arrivo alla preghiera con Etermis finalmente continuamente e varie preghiere per la preghiera concreta per connettermi arriva lì sì io chiedo l'aiuto allora io prego questo aiuto è unico che posso ricevere attraverso le mie amici le immagini dei miei amici con questo io mi ricordo dello scopo della vita che c'è la meta questa vita io mi ricordo che dobbiamo arrivare al Bore io mi ricordo anche che il Bore qui mi sta insegnando mi sta educando ad essere simile a lui la sensazione del male e della mancanza del riempimento della volontà di ricevere e allora la connessione del gruppo fa diventare questo un nucleo nuovo sentiamo sappiamo che dobbiamo chiedere non per te stessi ma per gli amici e qui inizia deve essere più chiaro da questo momento che questo investimento della luce può essere soltanto dentro del chi da te stesso non può portare nulla soltanto dentro il tuo ego però tutto dal lavoro dentro del gruppo arriva tutto da questo si possiamo portare fuori la preghiera giusta adatta allora capisco da dove arriva che arriva tutto dal Bore e che dobbiamo individuarci con lui non con con quello che io mi sento in me in quale condizione che si trovi tristezza quella che sia scusate e trovare individuare queste situazioni più rapidamente possibile che questo è il Bore questo dipende in forma diretta quanto l'uomo veramente si include nella società se lui si include la società può essere che anche alla fine lo scoprirà però sarà fatta da te una lunga via di sofferenza per se si include la società lui intenzione la fonte che fa passare a lui tutte queste situazioni e questo è lo scopo di tutto alla fine si concentra in quello spazio che è chiamato come la inclusione della micica che anche stabilisce questo rivolge alla preghiera dell'uomo altri libri il ravi e così via la domanda però che c'è con quale è la risposta con quale è la risposta il Bore è molto difficile arrivare a questa preghiera della connessione con gli amici bisogna desiderare questo se non che attraverso tutti questi processi che ti fa attraversare il Bore che sono obbligati questi processi questi passaggi però proprio dal fatto che il Bore si trova in questa formula fa cambiare il tuo approccio al problema allora la sensazione verso di essa diventa cambiata anche di essa il Bore mette l'uomo dentro di questi problemi però anche butta la corda per uscire questi problemi passiamo alla prossima